Dieci giorni fa la tragica scomparsa degli avvocati salernitani Mario Valiante e Wilma Fezza, travolti e schiacciati da un mezzo pesante, mentre erano all'interno della propria auto in coda all'uscita di Ebol in direzione sud. Ora un altro incidente mortale, quasi allo stesso punto, ma sul versante opposto, dove una vettura in panna era ferma sulla carreggiata intorno all'1,30 con il conducente uscito dalla sua auto per allertare i soccorsi insieme ad un altro automobilista in transito. Ma dopo pochi istanti è giunta un'altra vettura che ha tamponato l'automobile ferma. Il conducente, un 41enne di polla, è morto sul colpo. Inutili i tentativi effettuati dai soccorritori del Vopi, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati per rimettere in sicurezza la carreggiata. A ricostruire la dinamica di quanto accaduto, gli agenti della polstrada delle sottosezioni di Ebol e Sala Consilina che hanno richiesto l'intervento del medico per la certificazione della morte dell'uomo. Sul posto è giunta un'auto medica, ma il medico a bordo, che non era alla guida, sembra sia risultato in stato di ebrezza e così sarebbe stato richiesto l'intervento di un altro medico.